Amici 22, anticipazioni undicesima e nessuna eliminazione, ospite i Rama. Si è da poco conclusa la registrazione dell'undicesima puntata di Amici 22. Giovedì 24 novembre Maria De Filippi ha condotto lo speciale che sarà trasmesso in televisione domenica 27. Le prime anticipazioni trappelate dagli studi riguardano i talenti che si sono distinti in positivo e in negativo nelle riprese odierne. Tra gli osservati speciali c'era sicuramente Niveo, il cantante e al centro delle critiche da settimane. In quanto secondo una fetta di pubblico avrebbe dovuto sfidare Angelina nel precedente appuntamento. Oggi, comunque, non ci sono state eliminazioni, perché tutti i ragazzi sono stati riconfermati nel cast. Giovedì 24 novembre c'è stata una nuova registrazione di Amici 22. Lo speciale che andrà in onda su Canale 5 domenica 27 novembre. Come ogni settimana anche nella puntata odierna ci sono state molte gare, i cantanti si sono esibiti nella gara di interpretazione e l'hanno fatto davanti a tre giudici d'eccezione, Cristiano Malgioglio, Irama e Federica Gamba. Stesso discorso vale per i ballerini, che hanno portato in scena delle coreografie inedite per dimostrare al giurato del giorno. Ovvero Nancy Berti, di meritarsi il banco e di proseguire nella corsa verso la fase serale del programma. Nella registrazione di Amici di Oggi molti occhi erano puntati su Miveo. Da qualche settimana Miveo è in crisi, stona e si piazza agli ultimi posti delle classifiche della propria categoria. La stessa Lorella Cuccarini ha spronato il talento della sua squadra a reagire. Perché altrimenti sarà lei stessa a prendere un provvedimento. La scorsa puntata, però, l'insegnante di canto ha protetto il suo pupillo dal tentativo di Arisa di metterlo in sfida immediata contro Angelina. La showgirl si è opposta alla richiesta della collega e ha insistito affinché la sfidante si confrontasse con Ascanio, che ha perso il confronto ed è stato eliminato dalla scuola. Un parere che hanno condiviso molti fan del talent show, e anche alcuni ragazzi all'interno della casetta, e che sarebbe dovuto essere a Niveo a rischiare il posto contro una figlia di Mango anche perché dati alla mano, e l'alunno che sta ricevendo i voti più bassi nell'ultimo periodo. La giovane è entrata a far parte della classe e oggi ha fatto la sua prima esibizione da membro del team Cuccarini, dopo averci pensato un po'. La cantautrice ha scelto come tutor Lorella e non Arisa. In settimana tanti allievi della scuola di amici hanno avuto momenti di crisi, i dai team hanno mostrato i crolli di Federica. Cricca, Wax, Ludovica e Megan, tutti messi alla prova da esibizioni difficili da preparare per l'undicesima puntata. Nel corso della registrazione del 24 novembre c'è stato l'esordio sul palco di Isabel, la ballerina che una settimana fa ha eliminato Claudia con una sfida. Una sfida immediata. Oggi ha fatto la sua prima performance da allieva del team capitanato da Alessandra Celentano, la giovane ha preferito la maestra Emanuello. Gli spoiler delle riprese dello speciale che andrà in onda domenica 27 novembre. Inoltre, riguardano anche la gara inediti che c'è stata in questi giorni, meno sola di Federica si è sfidato con supereroi di Cricca e gli ascoltatori di Radio Z hanno scelto la canzone migliore. L'ospite musicale è stato Irama, che ha cantato per la prima volta il suo nuovo singolo intitolato Ali. L'ospite musicale è stato Irama, che ha cantato per la prima volta il suo singolo intitolato di Cricca e gli ascoltatori di Cricca e gli ascoltatori di Cricca. L'ospite musicale è stato Irama, che ha cantato per la prima volta il suo singolo intitolato di Cricca.